Ben ritrovati! Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi siamo qui per parlare un pochettino insieme, dato che abbiamo ricominciato il campionato e la Juventus ha vinto contro il Milan, una vittoria importante dal punto di vista del risultato, una vittoria non convincente al cento per cento, una vittoria episodica, l'abbiamo già analizzata, però ora inizia anche un pochettino il bello, il momento clou della stagione, perché io credo che a maggior ragione per una squadra che debba giocare solamente la Serie A, come la Juve, questo sia forse il momento in cui più di tutti ti fa capire di che pasta è fatta, perché io ribadisco che guardando un pochettino il calendario della Juve, vedendo che nelle prossime cinque mi pare ci sono Inter, Napoli e Fiorentina, che sono le squadre che o sono sopra o sono immediatamente sotto, deve dare un pochettino alla Juventus la sensazione di quello che sarà questa stagione. Però oggi voglio fare un po' di chiacchiere insieme a voi, mi piacerebbe proprio una sorta di botta e risposta, se voi avete qualche domanda o qualche considerazione, qualche spunto di riflessione interessante, fatemelo sapere, scrivetemelo, che possiamo assolutamente parlarne tutti insieme. Intanto ringrazio perché c'è una sub, visto ora, fra Damca, grazie mille per il ventunesimo mese, tanta tanta roba, tanta roba, 21 è un buon numero anche se purtroppo il numero di fagioli ed è un giocatore che per questa stagione non vedremo più a disposizione. Tra l'altro leggevo che Tonali ha avuto una squalifica effettiva di dieci mesi più otto, che non ho capito esattamente di cosa, ma ormai il discorso calcio scommesse mi hanno lasciato un po' alle spalle, di Tonali mi interessa relativamente poco, avranno avuto le loro motivazioni, non voglio nemmeno stare qua a parlarne perché spero che sia finita qui, proprio quella roba di spero che sia finita lì. Per un attimo ho pensato di stesse giocando la Juve quando questo lo modifica, no, non sta giocando la Juventus, stai tranquillo, la Juventus gioca sabato, quindi noi ci vediamo sabato per la nostra bella diretta solita. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, Alessandro dice, ciao Luca, potresti trattare il discorso sulla Coppa del Mondo per il club? Attualmente la Juve può partecipare, il format è appunto cambiato. Tengo seguito di approfondire la questione perché è molto interessante, pare che dipendiamo dall'antimità del Salzburgo. Allora, sì, ho sletticchiato un pochettino. Allora, intanto mi pare che si parli della Coppa del Mondo 2025, format a 32 squadre, se non ho capito male, e parteciperanno tipo due squadre per ogni paese. Ci sono qualificate già Manchester City, Chelsea e Real perché hanno vinto le ultime Champions e quindi per quanto riguarda le inglesi dovrebbero essere qualificate appunto il Chelsea e il City, no? Il Chelsea e il City e potrebbero invece qualificarsi comunque in più, tipo il Newcastle, che è una delle inglesi che non è nel Chelsea e nel City, vincendo per dire la Champions League quest'anno. Ora, non ho capito esattamente quali saranno i criteri, non so nemmeno se c'è un criterio definito, si guarderà sicuramente i punti all'interno delle ultime quattro disegni della Champions perché ovviamente essendo un mondiale verrà giocato ogni quattro anni e non ho capito di quando, probabilmente già questa stagione verranno definite un po' le squadre. Sulle italiane c'è l'Inter, mi pare più avanti di tutte, e poi c'è la Juve, quindi nel momento l'Iventus sarebbe qualificata per questa nuova competizione, se ho capito bene. E la Juve deve stare attenta a Milan, Napoli e Lazio perché sono le altre tre italiane all'interno della competizione e appunto al Salisburgo perché non c'è nessun'altra squadra della loro nazione. Il Salisburgo però dovrebbe vincere le prossime tre del girone che sembra un po' complicato perché ci sono dei punti extra sul passaggio del girone. Quindi adesso per il momento è ancora un po' presto per parlare di questa roba qua, però c'è questa volontà di creare una Coppa del Mondo per il club, secondo me è anche una bellissima idea, sarà un bellissimo format se gestito correttamente e quindi speriamo che la Juve possa poi entrare all'interno di questa convocazione, ci saranno appunto due club per paese, vediamo se alla fine sarà la Juventus. Buonasera, molto bello Luigi, è un nome che mi si addice, devo dire la verità, ciao, ciao. Sempre più cringe la intro, sì, ed è per quello che è molto bello, io tra l'altro spero che tu sia il vero Federico Chiesa, sarebbe ancora più bello sentire che Federico Chiesa ha detto che l'intro è cringe. Aspettavi questa live da un mese, ma in realtà avevamo già fatto l'anno scorso, no, sì, l'anno scorso, la settimana scorsa una live in mezzo alla settimana dove avevamo parlato appunto del calcio scommesse dove era venuto fuori tra l'altro il nome di Zaleski mentre eravamo in diretta, poi il nome di Zaleski si è un po' perso, sembra, no? All'interno di tutta sta roba qua. Domani c'è già la Serie A, domani c'è già la Serie A, sarà interessante, secondo me, questa giornata nello specifico, perché questa giornata nello specifico signori è importante per la Juve, ora, importante non significa decisiva, che è diverso, però è molto importante, è molto importante perché, vado a memoria, si gioca Napoli-Milan, si gioca Inter-Roma, si gioca l'Astria-Fiorentina, quindi le due che sono sopra hanno una partita importante, le due che sono sotto hanno una partita importante e noi giochiamo in casa con l'Elas-Verona, che in questo momento è al quintultimo posto in Serie A. Quindi significa, significa che la Juventus ha delle buone, non dico ottime, certe, buone, buonissime possibilità di concludere questa giornata di Serie A al primo posto in classifica, cioè, se l'Inter e il Milan mollano qualcosa e la Juve vince, la Juve chiude come prima in classifica questa giornata di Serie A, ma sapete cosa serve? A nulla, non serve assolutamente a niente, non serve a niente perché, perché poi, come vi dicevo prima, nelle quattro successive, Inter-Napoli-Fiorentina, sono quelle che ti andranno a provare la febbre, per quello che io continuo a dire che giocare una volta a settimana è uno schifo, non mi viene in mente un altro termine se non schifo, ma allo stesso tempo per la Juve è un vantaggio, perché può preparare con calma la singola partita e non deve sovraccaricare, cioè io mi metto nei panni del tifoso del Milan, che questa settimana è iniziato, domenica sera, preparare la sfida con la Juve, ma più che il tifoso del Milan, con il Milan, gruppo squadra Milan, allenatore Milan, giocatore Milan, domenica sera la partita con la Juve, quindi preparare la partita con la Juve con i giocatori che tornano nella pausa nazionale, come è stato comunque per Allegri, quindi preparare la partita con il Milan, però adesso Allegri sta preparando già la partita con l'Ellasdal martedì, perché è lunedì di riposo, nel frattempo invece gruppo Milan lunedì si è trovato, perché martedì era già vigilia della partita di Champions League giocata ieri sera a Parigi, quindi trasferta, quindi poi ritorno e domenica sera gioca con il Napoli, quindi in sette giorni Juventus, PSG e Napoli, tosta, tosta, e mi pare il Napoli a San Paolo, al Maradona, quindi doppia trasferta PSG-Napoli, tosta, cioè settimana tosta per forza di cose, e quindi noi dobbiamo per forza sfruttare e andare a rosicchiare qualche punto, siamo già partiti bene, no? Siamo partiti bene vincendo contro il Milan, bene, ora la settimana di tempo per preparare l'Ellas Verona mi auguro che la Juventus riesca a portare a casa il risultato di Riffa o di Raffa perché ormai mi sembra abbastanza chiaro e palese che la Juventus abbia fatto un passettino indietro rispetto alle convinzioni di inizio anno del correre, del pressare, non vedo più quella volontà di seguire quella roba lì, mi sembra già più una squadra un termine, viene in termine compatta, anche se forse compatta non è nemmeno il termine giusto, però una squadra più attenta, più prudente, ecco, una squadra più prudente che più che vuole fare il gol tenta di non prenderlo. Poi, bisogna capire, questo atteggiamento verrà fatto solo con le squadre come è stato a Bergamo con l'Atalanta o a San Siro con il Milan o verrà replicato, perché io credo che la Juventus per dire non abbia fatto nemmeno una buona prestazione in casa con il Lecce, non è stata una buona prestazione, però la Juventus poi in un modo o nell'altro è riuscita a sfangarla. Bisogna vedere quante partite così si riescono a portare a casa, poi magari in un anno senza coppe, giocandosi una volta a settimana, c'è più possibilità di portare a casa questo tipo di partite rispetto all'anno scorso. Non lo so, l'anno scorso avevi tanti saltelli da fare tra Champions che è andata malissimo e invece Europa League che secondo me poteva andare decisamente meglio e tutte queste cose qui, tutte queste cose qui, quindi vediamo. Da domani c'è già la Serie A, sono riuscito a fare tipo mezz'ora di discorso, ottimo, ottimo. Ottimo. un programma live su FIFA mi piacerebbe mi piacerebbe semplicemente per fare tra l'altro non si chiama più FIFA si chiama FC mi piacerebbe fare una sorta di carriera ora non so se con la Juve o con qualsiasi altra squadra da far crescere magari esistente magari da creare non lo so però questo mi piacerebbe mi piacerebbe poi riportarlo all'interno del canale YouTube tra l'altro questa stessa live verrà ricaricata su YouTube quindi un saluto ai ragazzi che stanno guardando su YouTube in differita aspetto i vostri commenti nei commenti fatemi sapere se potrebbe interessarvi una sorta di video riassuntivo di questa carriera mi piacerebbe devo dirvi la verità ma sicuramente non adesso perché adesso vi dico una roba che no non ve la dico ancora è ancora troppo presto ancora troppo presto però sicuramente in questo periodo no perché avrò degli impegni e questi impegni poi li vedrete trasformati tra qualche tempo nemmeno fra tantissimo dopo capirete il perché vi dico che da qualche mese sono abbastanza impegnato ciao eh sì sempre a forza io che bello quel cagnolone come immagine profilo il mio cagnolone invece qui che dorme ecco vi racconto questa poi torniamo sulla Juve meraviglioso abbiamo comprato a Nala una cuccia bella di plastica dura 40 euro di cuccia quindi anche grossa perché lei diventerà molto grande perché perché inizia a esserci freddo e quindi dormire per terra magari fa venire freddo di roba del genere lei ha paura del rumore della cuccia nella cuccia la 40 euro gigante ci dorme ragù meraviglioso e lei dorme per terra sulle traversine che sono messe lì per non farle farla pipì quando è in casa hai capito tutto Nala hai capito tutto bello sapere che gli sforzi gli investimenti economici vengono perfetto andiamo avanti andiamo avanti io ho una grandissima sensazione per la stagione credi che le sceneggiate le scenate di Allegri servano per togliere l'attenzione della squadra e mettere su di lui per lasciare tranquilli e secondo me possiamo finire molto in alto allora io finire molto in alto non lo so lo torno a dire per me la Juve non vincerà lo scudetto per me la Juve non è la squadra che alla fine dell'anno vincerà lo scudetto però la squadra che più di tutte quelle che possono permettersi di fare questo ragionamento del non ho altre partite alla rosa migliore perché quelle che sono fuori dalle coppe sono squadre attressate per lottare che non è vincere perché questo deve essere tante persone quando faccio questo discorso mi dicono ma cosa vuoi vincere con sta rosa ma io non voglio vincere anzi io voglio vincere certo ma il discorso non è questo credo di averlo già ribadito più volte negli ultimi giorni ha maggior ragione perché perché parlare di lottare per vincere di rimanere attaccato ma non significa che la Juventus sia obbligata a vincere per me non lo è assolutamente tutte le volte che faccio questo discorso mi sento rispondere che chi dice che la Juve è obbligata a vincere dice una follia ma lo so anch'io lo dico anch'io ma io non sto dicendo questo cioè sembra quasi che se ti esponi un po' di più nel dire guarda che comunque la Juve per la rosa che ha per il rapporto che sono le rose di Serie A per il livello della Serie A per gli impegni di altre squadre di Serie A non può non entrare a notte a Scudetto si dica n'eresia secondo me si dice la più normale verità che è un'opinione quindi verità mia però non sto dicendo che la Juve debba vincere lo Scudetto sto dicendo che la Juventus debba rimanere lì poi si vince si perde ragazzi il calcio e lo sport fatto così però rimanere sempre attaccati dopo anni che non l'abbiamo fatto secondo me è necessario non credo che le scenate di Allegri servano per questo lì Allegri si è arrabbiato semplicemente lì Allegri si è arrabbiato che è una cosa diversa non credo che sia questa roba qui Alex grazie mille per la sub ciao Luca partite davvero una più importante di quella del Milan che ne pensi? no no perché quella del Milan valeva 6 punti quella di Verona invece che è importante però darti un'altra definizione bastarda la partita di Verona è bastarda adesso ti spiego anche il perché la partita con il Milan valeva 6 punti era una partita tosta una partita contro un avversario tosto ma contro un avversario anche indebolito per via delle assenze che avevano per squalifiche per infortuni e soprattutto anche per quello che dicevamo prima per la testa che magari era già proiettata verso altre partite come quella col PSG che poi è finita tra zero per il PSG e bla 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 però quella col Verona e giochi in casa con l'Ellas contro una squadra che sulla carta non ci deve essere partita in una giornata in cui il calendario è super favorevole a te che ti può proiettare in cima alla classifica è bastarda perché se non fai punteggio pieno oggi ti sei mangiato un jolly incredibile un bonus incredibile quindi secondo me è molto bastarda ed è molto pericolosa l'altro giorno Davom a Tutti in the Box mi diceva ma tu non hai paura e io dicevo guarda io ho sempre paura quando gioco alla Juve questa Juve perché questa Juve ha un avversario che è se stessa anche a Sassuolo non ti aspettavi di perdere e nemmeno di perdere in quel modo lì cioè questa Juve non ha trovato quell'equilibrio quel andare sempre a una certa soglia adesso non so quanti di voi siano esperti di matematica ma dovessimo immaginarci il grafico le Juve degli altri anni facevano così tre punti zero punti un punto tre punti tre punti un punto zero punti un punto un punto tre punti cioè erano tutti i grafici trastagliati per rimanere invece su una buona onda dovresti essere tre punti tre punti tre punti un punto tre punti tre punti un punto zero punti perché poi si può perdere però non puoi arrivare a quante partite ha perso la Juve l'anno scorso in Serie A vediamo Serie A quest'anno siamo a una sola sconfitta per il momento col Sassuolo l'anno scorso in Serie A abbiamo perso dieci volte dieci sconfitte sono tante l'anno prima abbiamo perso otto volte sono tante per darvi un parallelo Milan e Inter che arrivano praticamente a pari punti nel 2021 2022 perdono quattro volte il Napoli l'anno scorso ha perso quattro volte ora io non dico che io dovrò arrivare a perdere quattro volte perché perdere quattro volte significa comunque arrivare quasi a giocarsi a scudetto però andare oltre le 5-6 sconfitte secondo me inizierebbe essere molto pericoloso quindi bisogna un attimino ritrovare quell'equilibrio all'interno del grafico di cui vi parlavo prima perché se no è un problema Coppa del mondo per club e Superliga è un po' differente il concetto nel senso che la Coppa del mondo per club sarà ogni quattro anni come una vera e propria Coppa del mondo la Superliga era pensata per essere stagionale quindi c'è un po' di differenza no 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 sentiamo la scorsa sì ne parlavo prima dovrebbero essere dieci mesi più otto di non so che cosa sperando che possa andare avanti così e essere finita così per te la perdiamo perdiamo Verona la Fatal Verona ma Torino col Verona ma io spero proprio di no spero proprio di no per il discorso che facevamo prima è una partita bastarda c'è un'altra definizione è una partita molto bastarda mi trovo molto d'accordo con te con le cose che hai detto nei video di Samarsic io comunque continuo a pensare che Allegri non sia l'agrenatore ideale ma questa allora il discorso di Allegri adesso lo cito lo cito su Allegri il discorso è molto semplice signori e mi attacco anche a una domanda che avevo letto prima che è questa qua mi aggrappo per darvi un po' la mia opinione se tu fossi se tu oggi fossi ingiuntoli quanta fiducia avreste in Max e io comunque continuo a non pensare che sia l'agrenatore ideale e mi collego anche a un'altra un altro commento che non mi ricordo se l'ho letto su Instagram o su YouTube ma era una roba del genere e cioè ma se Allegri dovesse arrivare a lottare per lo scudetto e questa stagione magari perdono per 5 punti a fine stagione lo confermeresti? allora l'atto giunto lì questa è una cosa che ho già detto l'atto giunto lì giunto lì arriva la Juventus con Allegri che è stato confermato allenatore allora giunto lì non può fare nient'altro giunto lì è impossibilitato a fare tutto quello che prevede ragionamenti sull'allenatore perché l'allenatore è stato confermato dobbiamo veramente ragionare come se fosse un posto di lavoro tu arrivi in un posto di lavoro e ti danno un riferimento aziendale importante se il dirigente di un determinato ufficio il responsabile di un determinato ufficio e la settimana prima del tuo arrivo conferma il contratto a quello che è quello che lavora subito sotto di te all'interno dell'ufficio a te può piacere o non piacere ma sarà un appena rinnovato non puoi arrivare e dire sapete cosa adesso cambiamo anche perché poi per cambiarlo bisogna far intervenire i piani alti quindi Giuntoli arriva che gli piaccia non gli piaccia Allegri deve piacere pubblicamente lo deve difendere e Giuntoli non è che può basarsi sulle due stagioni precedenti oggi per analizzare Allegri quello poteva farlo in caso di arrivo quando ancora la figura di Allegri era in bilico quando si è discusso perché se ne è discusso il momento in cui Allegri è stato confermato Giuntoli deve iniziare a valutare la figura di Allegri dal giorno in cui lui entra in società dal giorno in cui entra in Juventus e quindi da questa stagione dal ritiro dalle dichiarazioni dagli allenamenti dalle partite dai cambi da tutto quello che serve per analizzare un allenatore Giuntoli non può fare come fa il tifoso della Juventus e analizzare le due stagioni precedenti dell'Allegri ma come non si può nemmeno prendere in considerazione l'Allegri 1.0 per valutare l'Allegri 2.0 sono due cose separate quindi Giuntoli si baserà su questa stagione e quello che verrà da questa stagione sarà la decisione li facciamo fare anche l'ultimo anno cambiamo l'allenatore lo cambiamo in corsa perché magari si chiude qualcosa ma Giuntoli si deve concentrare su questo perché è giusto che sia così è logico che sia così non può fare diversamente quello che è il mio giudizio o il giudizio del tifoso in generale è un discorso a parte perché non si basa unicamente su questa stagione quindi secondo me se dovessimo arrivare quest'anno al terzo posto dato che si parla di posizioni secondo me non si deve parlare di posizioni si deve parlare di percezioni di range arrivi al terzo posto ma ci arrivi e sei a meno 7 dal primo posto alla fine dell'anno quando ancora ci sono le competizioni perché è ovvio che poi magari una squadra vince lo scudetto con 6 giornate d'anticipo le 6 successive le perde e tu arrivi a 7 punti dal primo posto sì certo però ci sei arrivato perché quell'altro magari l'hai perse tutte e tu dopo le hai vinte ma eri già fuori dalla lotta la percezione deve essere quando ancora si lotta quindi vincono lo scudetto a 5 giornate dal termine tu a 5 giornate dal termine eri a 6 7 punti tu hai fatto la tua stagione poi magari per un motivo o per un altro non sei riuscito ad incastrare a gennaio non fa il colpo c'è un infortunio sbagli la partita ci possono essere mille variabili però se mentre il campionato è ancora in corso e te sei lì a 6-7 punti e non lo vinci io capisco anche magari il ragionamento di Giuntoli e di Manna che da quest'anno qui che sono dirigenti della Juventus e pensano che senso avrebbe cambiare l'anatore che comunque ci ha portato non a vincere ma comunque di vicino senza avergli fatto il mercato perché noi gliel'abbiamo fatto quest'anno dirigente la Juve deve ragionare così poi entra in gioco la valutazione del tifoso che non può ragionare solo su questo Allegri e bisogna capire come ci si arriva perché se la Juventus mi vince prossime 15 partite come sono state Juvelecce io non sono contento di quello che è il risultato della Juventus è ovvio che vincere mi piace sempre per me se vinci in un modo o nell'altro e vinci col tuo modo sei bravo cioè se Allegri quest'anno vince lo scudetto così io festeggio e sono contentissimo poi posso dirvi secondo me è molto più complicato replicarlo in questo modo vi faccio un esempio l'altro giorno dicevo a Tutti in the Box che il lo scudetto del Milan di due anni fa è uno dei più grandi misteri del calcio recente secondo me e qualcuno si è anche un po' arrabbiato dicendo ma come puoi dire una roba del genere allora facciamo il ragionamento sugli ultimi due scudetti in Italia quello del Napoli e quello del Milan quello del Napoli deriva da un'impostazione tattica ben definita no? perché il Napoli tatticamente è stato meraviglioso e tatticamente il Napoli ha aiutato a crescere diversi giocatori anche tecnicamente credo che questo sia un dato di fatto Spalletta è stato molto bravo nei due anni a Napoli nel secondo è stato meraviglioso e ha fatto qualcosa di incredibile e che nessuno poteva attendersi o aspettarsi e che nemmeno gli veniva richiesto perché quando partiva l'annata non era né la squadra più forte definita più forte dagli altri nemmeno quella magari che mediaticamente poteva essere ma nemmeno economicamente quindi nemmeno quella più pagata non era niente di tutto questo era una squadra che partiva con la necessità di colegge è stato molto bravo siccome è in questo Spalletti se Spalletti fosse rimasto a Napoli anche in questa stagione cioè Spalletti non si rimette non arriva Rudy Garcia Spalletti riparte dal suo Napoli con esattamente le stesse accessioni e gli stessi acquisti di quest'anno secondo voi il Napoli è sì o no la squadra favorita per lo Scudetto per me sì senza ombra di dubbio anche con l'Inter che sulla carta abbia la rosa più forte comunque di quella del Napoli come era l'anno scorso e come secondo me anche quest'anno ma se il Napoli andava a confermare Spalletti per me avrebbe avuto assolutamente la rosa più forte in assoluto no? Benissimo cioè la rosa più forte la favorita per lo Scudetto benissimo il Milan l'anno prima non lo vince solo con una grande impostazione tattica perché secondo me l'impostazione tattica del Milan era basilare ma efficace e secondo me si è visto benissimo anche nella sfida tra Milano e Napoli dell'anno scorso in Champions League il Napoli che tatticamente era luce avanti al Milan ma il Milan sapeva fare quelle due o tre cose in maniera talmente tanto precisa e perfetta che funzionavano sempre la classica asse l'asse mancina tra Leao e Teo Hernandez che funziona sempre e va sempre e funziona perché la fanno bene o non è mica non ha nemmeno inventato l'uomo sulla luna con una bicicletta hanno semplicemente sfruttato dei concetti basilari del calcio e li hanno applicati ai giocatori più forti e che fanno la differenza ed è funzionato perché tatticamente hanno preso un'idea semplice e l'hanno resa molto efficace e il Milan quell'anno lì non vince mica perché era forte come il Napoli dal punto di vista tattico vince perché si era creato un gran gruppo questa è la motivazione numero uno e perché erano rimasti attaccati al sedere dell'Inter sempre ed erano andati anche oltre i loro limiti ed erano andati decisamente oltre quello che potevano fare ed era molto più difficile aspettarsi il Milan replicare lo scudetto rispetto al Napoli sempre secondo me questa è la mia visione perché perché il Napoli aveva un impianto tattico meraviglioso il Milan ce l'aveva a basilare ma aveva buttato tutto sul gruppo no? questa secondo me è la grande differenza tra le due squadre le ultime due squadre scudettate infatti quando vi vogliano vendere il fatto che c'è un modo solo per arrivare non c'è un modo solo per arrivare non c'è un modo solo per arrivare e secondo me la Juventus di questi due anni degli ultimi due anni non ha mai avuto né l'impianto tattico di livello come il Napoli di Spalletti che è difficilmente replicabile perché era diventata veramente qualcosa di meraviglioso ma nemmeno il mordente la voglia e la cattiveria di rimanere gli attaccati del Milan di Pioli dello scudetto cioè le ultime due squadre che hanno vinto in Italia hanno vinto uno scudetto uno per una cosa uno per un'altra e sono due concetti fondamentali del calcio che a volte non si ligano all'interno della stessa squadra perché si trovi una squadra che ha un impianto tattico di livello come quello del Napoli grazie all'impianto tattico riesce a far fiorire tecnicamente i giocatori anche quelli che non ci credevi e che rimane sempre attaccato con cattiveria agli avversari anche nei momenti più difficili ai ragazzi diventa il Manchester City che ha vinto l'ultima Champions League stiamo parlando veramente di una squadra di alto altissimo livello e io lì vedevo quella roba lì la vedevo nella prima Juve di Allegri siccome è quella roba lì nella prima Juve di Allegri c'era qualcosa ereditato dalla Juve di Conte sì ma Allegri non arriva in finale di Champions per Conte sicuramente Conte lascia un'eredità meravigliosa una squadra fenomenale ma Allegri ci mette tanto del suo in quella annata lì ci mette tanto del suo cioè non dimenticatevi mai alla fine le squadre la componente principale più importante delle squadre sono i giocatori è inutile è inutile girarci intorno la componente principale delle squadre sono i giocatori e poi dopo i giocatori entran gli allenatori perché senza gli allenatori se gli allenatori non ci mettano del loro anche i giocatori più forti non vai da nessuna parte serve un connubio di queste cose e deve esserci anche la società forte dietro vi faccio un esempio sto guardando il documentario di Beckham su Netflix non so quanti di voi l'abbiano visto io spero tanti Beckham dallo United litiga con Sir Alex Ferguson e lo cedono cedono Beckham perfetto Beckham arriva ai Galacticos e stiamo parlando di quel Real Madrid lì cioè Real Madrid con Raul Gonzalez Blanco Ronaldo il fenomeno Luis Figo Zinedine Zidane Roberto Carlos abbiamo citato i cinque che sono già dei livelli inarriabili a cui si aggiunge David Beckham che in quel momento era allucinante all'interno sapete cosa fa quel Real Madrid sapete cosa fa Beckham fa quattro anni al Real in quel Real lì dei Galacticos che due anni prima vinca la Champions l'anno prima avevano vinto la la Liga con del Bosche mi pare che aveva vinto sia sì Casillas Iero Solgado va bene adesso io vi ho nominato quelli che mi sono venuti in mente aveva vinto due anni prima la Champions e l'anno prima la Liga esonerano del Bosche prendono il vice allenatore che aveva Beckham allo United il vice allenatore di Selarex Ferguson con quella squadra lì quella squadra lì arriva quarta quarta credo che vinca una supercoppa all'inizio della stagione poi arriva quarta in Champions viene eliminata mi pare dal Monaco la Coppa dei Re uno schifo e l'anno dopo cosa fanno cambiano allenatore nelle prime tre giornate c'è un allenatore lo esonerano poi ne fanno arrivare un altro che dura fino alla diciassettesima mi pare lo esonerano poi ne fanno arrivare un altro che porta a fine stagione col Real che arriva terzo una roba del genere secondo non lo so una roba così l'anno successivo quell'allenatore confermato poi lo esonerano ancora cioè fino a che non arriva Fabio Capello al quarto anno di Beckham a Madrid e vince la Liga ma non è già più quel Real Madrid non c'è già più Zidane per dire non c'è già più poi qualcuno va via quindi Galacticos quella squadra lì meravigliosa c'erano i più forti del mondo in quel momento veramente i più forti del mondo io me lo ricordo perché in quei periodi lì iniziavo ad avvicinarmi veramente al calcio per curiosità per comprendere quando giocavo a cos'era PES 2005 una roba del genere PES 5 c'era quel Real Madrid io prendevo sempre quel Real Madrid perché c'erano letteralmente tutti ed era bello metterli insieme lì c'erano i giocatori non c'era né la società né l'allenatore perché la società non aveva fiducia nell'allenatore perché c'erano dei continui cambi in pagina i giocatori c'erano parlare di quel Madrid lì e dire che non c'erano i giocatori era follia e c'erano i giocatori non c'era né l'allenatore perché mancava la struttura societaria forte la Juventus con Giuntoli e Manna ha cercato in questo momento di mettere lì lì una struttura societaria forte che debba prendere decisioni sportive negli ultimi anni la Juventus le decisioni sportive le prendeva chiunque chiunque cioè il giochino si è rotto quando Agnelli l'anno dopo l'addio di Allegri perché voi ricordate la conferenza stampa di Andrea Agnelli e Max Allegri il giorno che è andato via Allegri da Juve Agnelli dice questa è la decisione più difficile della mia carriera da presidente della Juventus e io non avrei mandato via Allegri ma io sono il presidente delego a chi è competente in materia e poi queste persone si assumeranno le loro responsabilità me lo ricordo come se fosse ieri me lo ricordo come se fosse ieri e gli pensi hai capito Paratici e Nedved che hanno spinto per far andare via Allegri o uno o l'altro tutti e due non lo so e prendere un altro allenatore di un tipo diverso arriva Sarri Sarri viene esonerato a fine stagione Sarri viene esonerato a fine stagione e chi la fa la scelta del nuovo allenatore? chi la fa la scelta dell'allenatore? metterci Andrà Pirlo in panchina chi la fa? Andragnelli che è il presidente che non è più il presidente che delega a chi di dovere e chi di competenza poi si assuma le loro responsabilità si mette in prima persona e chi decide poi di riportare a casa Allegri l'anno dopo? Andragnelli il giochino si rompe lì negli ultimi anni le decisioni sportive della Juve erano buttate in mano a chi non era competente per farlo poi con la dimissione del CDA ancora peggio perché poi provano a metterci una pezza e a metterci Cherubini arriva bene e secondo me Cherubini è stato molto bravo nel portare avanti il suo lavoro anche nella creazione della Next Jet e arriva bene invece lo considero veramente poco competente in materia sportiva eppure ci ha messo bocca in decisioni sportive camufandole per decisioni economiche che però erano decisioni sportive e il giocattolo si rompe definitivamente quando c'erano già delle crepine nel momento in cui si dimette il CDA e la Juventus finisce in mano a una dirigenza costruita di avvocati una dirigenza tecnica una dirigenza di commerciali il presidente della Juventus è un commercialista il presidente della Juventus Ferrero è un commercialista ed era una dirigenza tecnica che non poteva prendere decisioni sportive infatti che cosa fa John Elkan? va a dare il potere sportivo totale all'allenatore che è una cosa che non si è mai vista prima perché Allegri era sia l'allenatore che il suo responsabile è stata una roba folle per quello vi dico Giuntoli arriva la Juventus il momento in cui Allegri è già stato confermato e allora Giuntoli che avrebbe il potere di cambiare l'allenatore non può cambiare l'allenatore sul pregresso delle due stagioni precedenti deve lavorare su quello che è Allegri dal giorno in cui arriva Giuntoli a quando ci sarà da decidere se andare avanti con lo stesso allenatore o cambiarlo quindi magari quest'estate io mi auguro quest'estate io mi auguro quest'estate perché significa che la Juventus arriverà a fare una stagione come non la vediamo da un po' come non la vediamo da un po' quindi gli è attaccata e lotta per provare a dar fastidio nello scudetto poi Allegri deve decidere come arrivarci io credo che Allegri in questo momento abbia due chance due strade davanti a lui fidarsi di quello che è sempre stato il suo credo e quindi andare avanti con l'atteggiamento che ha tenuto anche nelle ultimissime partite molto prudente come dicevamo prima oppure cercare di sfruttare una squadra più giovane quindi più atletica delle indicazioni interessanti che sono arrivati dalla pre-season e da delle cose interessanti che abbiamo visto anche nelle prime giornate di campionato anche se non la ripetizione degli spezzettoni io sono convinto soltanto di una cosa se Allegri anzi se la Juve dovesse andare male male nel senso che ne so arrivo quarta per un pelo magari nemmeno arrivo al quarto posto ci arriva con il metodo che Allegri ha usato negli ultimi due anni pum apreti cielo la guerra civile se la Juventus sul campo ci mette tutto e fa vedere di aver avuto anche un tentativo di modifica di indicazioni degli ultimi anni e ce l'ha messa tutta ma cavolo non c'è arrivata perché non c'è arrivata per mille motivazioni la squadra poi si è rivelata troppo scarsa i giocatori si sono fatti male la palla che non voleva entrare becchi dieci palle in una partita quella partita decisiva ci arrivi con uno affaticato qualsiasi cosa e sono convinto che la tifoseria della Juve sana quella che non è che dice a cavolo è Allegri allora pur di far andarvi Allegri o proprio perché Allegri non gli riconosco perché io io purtroppo sono stanco di Allegri per un motivo principalmente che è divisivo che è divisivo che se parli con qualsiasi persona che ormai te l'ha buttata oh io Allegri ho battezzato e quindi o lo amo o lo odio se parli con quelli che lo amano anche quando cerchi di dare di fare una critica costruttiva su quella che è stata la gestione di Allegri sei un deficiente e non devi permetterti perché lui ha vinto questo ha vinto quello e quindi stai zitto non puoi permetterti vuoi il male della Juve se parli con chi Allegri lo odia e provi a dire sì però non è che la striscia di Gaza stanno facendo la guerra perché è colpa di Allegri e allora devi stare zitto perché sei un deficiente perché vuoi il male della Juve che non è così io sono stanco per questo principalmente questa è una situazione che proprio mi stanca perché non si può più parlare di calcio quindi io vi dico io non ritengo Allegri l'allenatore giusto tutto questo per la domanda che è iniziata mille anni fa io non lo ritengo l'allenatore giusto per me non lo è non lo è ed è già stata una valutazione sugli ultimi due anni se Allegri vince lo scuetto quest'anno io sono contentissimo sono felicissimo e anzi secondo me Allegri dovesse vincere lo scuetto quest'anno farebbe bene e lui in prima persona dire sapete cosa basta vado mi dimetto perché così me ne vado da vincitore perché per me questa è anche un po' la volontà di Allegri non buttare via quelli che sono stati i primi cinque anni perché adesso bisogna veramente fare qualcosa di fatto bene è ovvio che il terzo anno per me non doveva esserci ma c'è e che cosa facciamo non guardiamo più la Juventus io non sono disposto a non guardare più la Juventus perché per me l'allenatore due anni prima era ad esonerare ma chi se ne frega non l'hanno esonerato bene c'è lui adesso mi deve dimostrare che l'hanno confermato per un motivo cioè io la vedo in maniera tremendamente semplice io la vedo esattamente così poi giusto ho sbagliato il mio modo di vivere la Juventus il mio modo di vivere il calcio il mio modo di vivere la situazione della Juventus il momento della Juventus il momento legato all'allenatore della Juventus è questo qui e allora che Allegri dimostri dato che gli è stata data un'opportunità in più per me non doveva avercela che lo dimostri non è che adesso mi incateno a cancelli della continassa questa estate la gente dice perché non fai niente per fare esonerare Allegri ragazzi questa è la mia opinione cioè se la Juventus non la condividono cioè se la Juventus un giorno dovesse dire esonerare l'allenatore perché Toselli ha detto che l'allenatore deve esonerare questi sono da prendere sono da prendere e rinchiudere le valutazioni le faranno loro che sono più competenti di me io ho una mia opinione la mia posizione la mia visuale sull'argomento la vedo così se la Juventus dovesse dire oh Toselli ha fatto una protesta su internet si è incatenato ai cancelli della continassa quindi sai cosa poverino adesso per farlo andare via se suoneremo Allegri voi siete da rinchiudere da fare vedere a qualcuno perché c'è qualcosa che non va bene quindi questo è un po' tutto quello che volevo dire sul momento poi secondo me l'Avventus non vincerà lo scudetto alla fine della fiera questa rimane la mia opinione la butto lì ho scritto anche nel gruppo Telegram Samarzic alla battuta inaspettata io mi è sembrato davvero felice chi è che gli ha detto questa cosa non mi capisco io cosa ne pensi di Healing che è un ragazzo con del potenziale e che mi dispiace che debba essere schiacciato questo potenziale all'interno di anche di un impianto tattico che non lo vede secondo me al centro io credo che Healing per Allegri sia Douglas Costa ora è un nome che va di moda ultimamente però ci avete fatto caso che quando la Juve perde il cambio è Healing e quando la Juve pareggio vince il cambio è Cambiaso o Kostic a seconda di quello che è rimasto in panchina cioè io Healing me lo ricordo a Sassuolo tante altre momenti di Healing a parte le prime due che erano legate al mercato perché Kostic sembrava dovesse andare via e quindi giocava Cambiaso entrava Healing io Healing lo vedo come la freccia di Allegri da buttare per cercare di rompere la partita quindi io non mi ricordo Healing ecco contro il Bologna contro il Bologna che ha rischiato di farsi a Speller poi ha fatto l'assist per Vlaovic io ho i due i due momenti in testa Healing che entra quando arriva sotto col Bologna e Healing che entra quando arriva sotto col Sassuolo in questa stagione questa è il mio ricordo di Healing molto interessante Samarsic e dobbiamo liberarci prima possibile di Max così sembra che dobbiamo disfarci tipo di un cadavere ormai sono diventate noiose le partite non va bene questa cosa però vi dico che per quanto sia stata noiosa Milan-Juve perché è stata noiosissima e mica solo per colpa della Juve ma anche per colpa del Milan e anche quando era in undici quella sensazione di dire ho vinto una partita male brutta prima partita brutta l'abbiamo vinta casissimo con una deviazione un'espulsione giocando in uno in più per tutto il tempo però quella sensazione del post partita di tirare quel sospiro di sollievo guardare la classifica e dire la Juventus è lì cazzo se mi era mancata cazzo se mi era mancata e se mi piace quella sensazione lì al di là del fatto che la partita è stata brutta perché la partita è stata oggettivamente brutta quella roba lì quella cosa che ti mette ah se mi mancava se mi mancava che bello ciao ciao e ne ho parlato oggi nel video di youtube di SummerSitch ma che ne so come si è risolto Zacchino J.Pata chi ne ha parlato non ne ho mai più parlato da quando eravamo in live su Twitch quindi non si è risolta credo se non l'hanno risolta senza dirci niente secondo me la Juve prenderà SummerSitch la Juve su SummerSitch ci proverà ci punterà questa l'abbiamo già detta a Verona perdiamo beh ci penseremo al giorno di ritorno perché noi giochiamo in casa questa giornata è esatto esatto ci sono delle partite toste poi c'è anche la lastra che gioco con la Fiorentina cavolo cavolo c'è anche la lastra che gioca con la Fiorentina secondo te più bella la maglia è un 17-18 o 18-19 allora facciamo un attimo i conti 18-19 è quella di Ronaldo il primo Ronaldo giusto quella 17-18 è quella con le righe molto sottili mi piace più 17-18 però 18-19 diventa iconica proprio per Ronaldo però come gusto puramente estetico quella quella dell'anno in cui c'erano Douglas Costa Bernardeschi o Uedes quella lì a questo punto l'anno scorso avevano giù due o tre sconfitte ah ecco allora l'anno scorso giunti a questo punto vediamo avevamo perso sicuramente col Monza io ti parlo della Serie A perché poi sull'Europa che è un po' quello che continua a dire che la Juve deve focalizzarsi sul fatto che non ha le copie proprio per questo però in Serie A mi pare con il Monza non so se ne avevano già perse altre vediamo 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 Serie A giorno in andata avevamo perso con il Monza e basta ah no è con il Milan ne avevamo perse due in Serie A l'anno scorso arrivati a questo punto ne avevamo perse due Monza e Milan non non tante di più e sappiamo che la Juve carbura sempre dopo beh dipende dipende perché poi dopo quella sconfitta con il Milan mi pare che ci sia stato esatto il derby col Toro 1-0 Blaovic e poi è iniziata la striscia delle nove vittorie consecutive senza prendere gol però anche quelle nuove vittorie consecutive senza prendere gol cosa ti hanno lasciato poi perché anche l'anno scorso a un certo punto ci siamo guardati ci siamo detti sì va bene ragazzi però io capisco ogni tanto vincerla però in quelle nove erano state più quelle che ti lasciavano quel gusto lì da dire boh piuttosto che poi l'anno scorso la Juve arriva al Maradona arrivi al Maradona che se vinci quella partita mi pare che vai a meno 5 meno 6 una roba del genere e lì non c'era ancora stato niente di penalizzazioni c'era stata la dimensione del CDA d'accordo e ne prendi 5 e ne prendi 5 e a meno 4 e ne prendi 5 e vieni catapultato boom sotto e fine e fine e dopo lì è finito il campionato della Juventus del speriamo di rimanere gli attaccati perché alla fine la mia speranza l'anno scorso fuori di quest'anno era la stessa io credo che l'anno scorso nella testa della Juventus al di là della penalizzazione che non lo si poteva prevedere ma non fosse di dire vabbè prendo Di Marie, Pogba, Kosti, Cimilic per arrivare nei primi 4 non prendiamoci in giro l'Aventus fa quel mercato mica per arrivare nei primi 4 l'anno scorso l'Aventus fa quel mercato per cercare di ridurre il gap con l'Inter che alla squadra che nonostante non avesse vinto il campionato era evidenzata tra tutti come la più forte come la migliore quella con la rosa più forte e prendi quei giocatori per cercare di accelerare di avere una sorta di scorciatoia che ti possono portarli poi mille per i pezzi e mille acquisti sbagliati quest'anno alla fine a fine mercato a differenza di Maria Quadrado Bonucci e Paredes quattro giocatori che l'anno scorso non ti è andato chissà che cosa di perché l'anno scorso con un mercato del genere l'Aventus che sicuramente non puntava a entrare nel primo e quattro quest'anno ci deve puntare perché deve ridimensionare un po' le aspettative ma senza le coppe secondo me non lo può fare non lo può fare anche perché l'altra sera ne ho già parlato ma Allegri si è un po' tradito sul perché le altre possano farlo la Juveno cioè ha inserito il Milan nella lista delle squadre che lo possano vincere il campionato e la Juveno motivando con eh sì però l'Inter l'anno scorso è arrivata terza sì ma il Milan è arrivato quinto dietro a Juve e ha fatto un mercato di un certo tipo perché poi ecco la cosa che mi fa ridere di Allegri mette il Milan che l'anno scorso è arrivato dietro di noi che ha ceduto noi i calciatori più importanti come Tonali e che ha fatto un mercato di giovani che magari la Serie A non aveva neanche mai vista ma se fosse stato al contrario noi arriviamo dopo il Milan e cediamo uno dei più forti e facciamo una squadra di tutti i ragazzi fai 5-6 acquisti di tutti i ragazzi giovani che in Serie A non ci hanno mai giocato Allegri andrebbe a dirti siamo più forti del Milan oppure andrebbe a dirti vabbè ma abbiamo rifatto la squadra ci vorrà tempo per far carburare questi ragazzi che la Serie A non l'ha mai vista poi è il gioco delle parti ci mancherebbe altro però ti fa capire effettivamente che Allegri che mette il Milan lì davanti davanti alla Juve come tra le favorite ora se ci metti il Milan ci deve essere anche la Juve non si scappa e a me sarebbe piaciuto semplicemente vederlo c'è stata una partita in cui eh col Toro sarebbe piaciuto vederlo col Toro un po' di più perché c'era l'emergenza c'erano fuori un sacco di calciatori e invece non si è sfruttata poi quando c'è un chiesa Vlaovic Milik e Ken io credo che Ildis faccia un po' fatica a trovare più spazio già il fatto che sia entrato nelle prime partite per me è stato molto molto bello Luca domanda chi è il calciatore più forte per valore assoluto nel suo periodo la Juventus che tu abbia mai visto da quando segui la Juve sarebbe scontato dire Cristiano ma forse il Tevez Bianconero è un numero inferiore ma preso le partite forse superiore non è stato un forte il Cristiano Bianconero allora sì per me ovviamente Ronaldo in assoluto perché Ronaldo alla Juve comunque è stato è stato già qualcosa di di allucinante però Tevez lo considero un acquisto migliore di Cristiano Ronaldo di gran lunga di gran lunga Pirlo è stato un acquisto migliore di Cristiano Ronaldo di gran lunga di gran lunga poi se ti devo fare un nome che pochi fanno a chi io te lo faccio perché io sono fortemente convinto che in quella singola stagione alla Juventus abbia inciso decisamente di più di tanti altri giocatori è Dani Alves Dani Alves ha fatto una stagione alla Juventus e Dani Alves nelle sfide di eliminazione diretta in Champions League è stato fondamentale tanto che arrivi a Cardiff grazie a Dani Alves Dani Alves credo che col Monaco tra andato e ritorno faccio un gol e tre assist su quattro gol o un gol e due assist all'azione dell'altro gol che manca l'appello cioè Dani Alves ha fatto una stagione a Juventus ed è un giocatore che mi ha dato tanto fastidio perché lo vedevo giocare in campionato e dicevo ma guarda te guarda te questo qua guarda te questo qua e in Champions League c'era sempre la differenza lì ti dà proprio la sensazione di un giocatore che gioca una competizione con la voglia gioca l'altra competizione con un'altra voglia quanto la testa vada a incidere quanto volesse di più fare la differenza in Champions ma Dani Alves è stato mostruoso secondo me nel singolo anno la Juve mostruoso poi non posso non mettere all'interno di questa cosa Pogba perché io ho fatto il secondo e il terzo anno di Conte come abbonamento allo Stadium quindi sono visto tutte le partite del primo Pogba io mi sono visto il primo gol di Pogba dal vivo mi sono visto tutte le sue esultanze quando chiudeva mi viene a pelle d'oca pensare a Pogba e quella siccome è stata la soddisfazione più grande della mia vita da tifoso perché? perché arriva il calciatore che non lo conosci non ci credi non paghi niente però il ragazzino sai inizia a dire però come tocca bene la palla questo diventa forte ma quello diventa forte subito quindi adesso Dani Alves e Pogba i miei due nomi oltre a Tevez e Ronaldo che ovviamente hai fatto a te e io non posso non mettere Pirlo in questa roba qui perché Pirlo Pirlo arriva che la stampa e la tifosina lo etichetta come è finito ed è diventato invece il giocatore che mi è piaciuto di più di tutti in assoluto vedere dal vivo più di tutti in assoluto e l'anno scorso l'ha deciso lui una zero Moise Ken una zero Moise Ken e mi sarebbe piaciuto fare il video oggi su Moise Ken stamattina avevo parlato di Moise Ken non abbiamo trovato il tempo per parlare di Moise Ken ma lo troveremo e invece abbiamo fatto questa live che poi è stata ricaricata su YouTube quindi lo faremo prima o poi il video su Moise Ken lo faremo anzi lo facciamo adesso lo facciamo adesso dopo un'ora di live lo facciamo adesso poi cerchiamo di chiuderla allora io vi dico che Moise Ken è un giocatore completamente diverso rispetto al Moise Ken che arriva il primo anno della Lega Ibis anche Ken è un ritorno alla Juventus ma il primo Ken non era considerabile un giocatore della prima squadra di Juventus era semplicemente un giocatore delle giovanili aggregato alla Juve che aveva fatto molto bene perché nelle partite in cui era stato chiamato in causa nell'anno di Ronaldo aveva fatto molto bene quando si fa male Ronaldo e fa gol col Milan e la decide col Milan quando bisogna fare turnover a Ferrara prima di giocare con l'Ajax quindi Ronaldo non gioca c'è quella partita con la Spal che perdiamo mi pare due a uno è incredibile ci sono solo Di Bale e Ken praticamente della prima squadra effettivamente tutti gli altri su ragazzi dei giovanili c'è Castanos c'è qualsiasi roba però Ken continua a fare gol su gol ogni volta che tocca la palla fa gol poi va in giro per il mondo prima all'Everton poi al PSG e poi torna alla Juve il primo anno di Ken alla Juve secondo me è male secondo me è male perché forse ha avuto anche un po' il peso di dover sostituire Ronaldo il peso di essere stato pagato così tanto e bla 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 il Ken dell'anno scorso e il Ken di queste prime battute io ho visto un Ken decisamente differente l'anno scorso lo ricorderete nel pagellone finale ma ne avevamo parlato più volte era il giocatore che aveva il miglior rapporto venuti giocati con lo segnati Ken è un calciatore che quando parte titolare è molto probabile che ti faccia gol o comunque la differenza perché l'altra sera se no si lo vinci per Moise Ken che fai spellere ciao io sono abbastanza convinto ma la controprova non l'avremo mai ma se non buttano fuori ciao la partita non la vince e anche con ciao fuori hai rischiato di non vincerla poi Moise Ken è un fenomeno e il gol che sbaglia porta vuota è tutto Moise Ken l'altro giorno leggevo una definizione di Edo e diceva Moise ci manca sempre il centesimo per fare l'euro per me è perfetta per me è perfetta come definizione di Moise Ken perché è proprio quel giocatore lì no è quel giocatore lì Moise Ken un giocatore che ha delle potenzialità ma non arriva ad essere chissà che cosa Moise Ken l'altro giorno parlavamo con con il critico il critico faceva la ringa su Moise Ken e diceva per me Moise Ken paga tanto il nome il fatto di chiamarsi Ken perché ha una scadenza gioca a 8 minuti poi viene rilevato ma si muove anche meglio di Vlaovic per le caratteristiche che deve avere il numero 9 è il più forte che c'è nella Juve io non sono esattamente d'accordo con lui per me Vlaovic anche come movenze è un giocatore che se la gioca molto apertamente con Ken e se penso al numero 9 credo che Vlaovic sia più numero 9 in generale di Moise Ken che Moise Ken lo vedo anche un giocatore che può partire davvero un po' decentrato defilato un giocatore che ha una buona velocità nonostante il fisico però signori Ken è come Rugani ed è come Rabiot il problema di Ken non è il nome il problema di Ken è il denaro perché Ken è stato pagato 35 milioni più bonus che valiva a 38 mi pare quasi 40 milioni di euro e a quasi 40 milioni di euro ti aspetta un giocatore che faccia la differenza Rugani è uno stipendio da 3 milioni e mezzo netti e 3 milioni e mezzo netti non può essere il quinto centrale della Juventus anche se quando giochi poi non sbagli praticamente mai niente perché questo è Rugani puoi giocarne una puoi star fermo 10-12 puoi giocarne una e comunque fare bene Rabiot non è un giocatore da 7 milioni e mezzo di euro di stipendio anche col decreto crescita in questa UEQA non lo è non può esserlo ma è un giocatore forte chi dice che Rabiot è un giocatore scarso dice una bugia poi non è un giocatore che vale quei soldi quindi i problemi di Ken Rabiot e Rugani siccome sono gli stessi che al prezzo che è stato pagato o all'ingaggio che viene riconosciuto non possono corrispondere a quelle qualità lì ma se Ken l'avessi pagato 10 milioni di euro o 15 ma che colpo sarebbe stato ma è incredibile è un giocatore non titolare lo tieni lì e quando ne hai bisogno lo metti su titolare e spesso e volentieri fa il suo il gol o la giocata che ti dice della partita Rabiot se avessi uno stipendio da 4 milioni di euro all'anno Rugani avesse uno stipendio da un milione e mezzo due milioni un milione e mezzo sì un milione e otto quanto sarebbe importante come riserva non è tantissimo quindi sono tante scelte sbagliate della Juventus negli anni che possano essere di dirigenze passate tutto quello che volete che però le metti tutti insieme e diventano un problema vi faccio un ultimo esempio poi cerco di di andare veloce con le ultime domande perché voglio anche chiuderla che voglio ricaricare su youtube ma tante volte anzi quest'anno è venuto fuori spesso volentieri il discorso del monte ingaggi che la Juve è uno dei monte ingaggi più elevati in Italia o il monte ingaggi più elevato in Italia adesso non mi ricordo se è la prima o la seconda con l'Inter non mi ricordo ma nemmeno mi interessa e la gente giustamente dice sì ma col monte ingaggi non vai in campo 100% d'accordo col monte ingaggi non vai in campo col monte ingaggi non vai in campo e anche l'altra sera l'anchiesta d'Allegri ma col monte ingaggi non vai in campo però il monte ingaggi viene deciso da delle decisioni societarie io tante volte tante volte quando esce una notizia vi faccio un esempio in questi giorni si è parlato tra le altre cose di Douglas Costa di Bernardeschi e robe del genere e tante persone mi hanno detto oh ma è una bella operazione ma alla fine se la fanno ma lo sapranno loro che la fanno oppure no ma certo che la sapranno loro che la fanno oppure no ma io comunque ho assolutamente diritto a dire per me sarebbe una buona operazione oppure no ma se la fanno nel momento in cui la fanno non è che poi possiamo dire eh vabbè sì monte ingaggi va su e bla 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 il monte ingaggi va su perché si fanno queste operazioni qui allora quando si fanno queste operazioni qui possiamo dire che sono operazioni folle dobbiamo dire che sono operazioni fatte bene e poi va sul monte ingaggio e allora dobbiamo dire eh ma quelli sono errori della dirigenza sono errori che sono stati fatti nel passato però quando è ora di parlare degli errori si deve dire no va bene fanno bene perché lo sapranno loro cioè è un cane che si morde la coda lo capiamo oppure no non possiamo mettere bocca sulle operazioni perché lo sanno loro che cosa fanno però poi quando le fanno e quando ci portiamo avanti degli errori negli anni eh vabbè ma hanno fatto degli errori eh vabbè ho capito allora prima di far rifare quegli errori possiamo dirlo o dobbiamo dire come dei bravi soldatini no sì 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 bene bene benissimo Bernardeschi perfetto sì 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 perfetto che dira Piani ma tu di prendiamoli tutti prendiamoli Udi Guain come dice riprendiamoli tutti rifaciamo la stessa squadra è quello che è il messaggio secondo me qua mi altero perché tante volte leggo dei commenti da delle persone che mi dicono eh ma non devi criticare quello che fa la Juventus perché sai tu e poi mi dicono eh vabbè però non ti ingaggi sono degli errori della dirigenza stesse persone commenti delle stesse persone allora da fare spallucci da che parte devo girarmi da dove la devo cercare la telecamera era nascosta questa è un po' la cosa che volevo dire allora so che ci ho fatto un video riguardo ma non penso che non ti stai ne fa pure no cioè allora è ovvio che sì cioè nel senso se uno mi dice arriva da Glass Costa e prende un milione di euro e per sei mesi non si fa male ed è ancora in forma e quando lo butti dentro chi è che ti dice di no ma queste tre condizioni verranno sono esaudite per me no è quello che stavano dicendo quello che stavano dicendo hai avuto modo di recuperarti la ringa di Damo nell'ultima puntata di Tutti in the Box l'ho trovata davvero degna di notte sono medesimato nel suo discorso ho l'impressione che sia un pochettino perso la bellezza di godersi della partita sono ben coscio del potere dei dati ma secondo me ogni tanto si va un po' oltre che sono gli effetti che dovrebbe essere un momento di svago non c'è giudizio nel mio discorso solo un pensiero ma io allora non l'ho recuperata tutta devo essere onesto però credo da quanto ho capito che la ringa di Davom sia stato appunto le persone non si riescano più a godere neanche una vittoria come quella di San Siro perché devono pensare a Possesso Pati ne importa che è esattamente il video che ho fatto la mattina dopo quindi il lunedì quindi il lunedì che è stato il giorno in cui è uscito poi è stata fatta la live in dei box e ho espresso lo stesso concetto c'era la gente che mi diceva ma come fai a essere contento della vittoria di San Siro che abbiamo giocato malissimo ma lo so anch'io che abbiamo giocato malissimo ma è quello che vi dicevo prima ma quella sensazione quel calore qui dentro di guardare la classifica e dire oh ma siamo lì e abbiamo battuto il Milan abbiamo battuti a San Siro anche se è stata una partita brutta e io quel calore lì l'ho provato l'ho avvertito e mi dispiace perché non è riuscito ad avvertirlo perché quello lì secondo me è proprio la benzina quella lì è la benzina che ti fa andare avanti nell'essere tifoso per me quella lì è proprio la benzina poi io sono il primo a sapere che è una vittoria brutta è una vittoria sporca è una vittoria fortuita è una vittoria episodica però questo per me viene dopo per me prima viene il fatto che quella vittoria lì è stata importante quella vittoria lì era da anni che non arrivava perché erano anni che non battavamo il Milan quella vittoria lì erano anni che non facevamo una vittoria così importante per una classifica quella vittoria lì per me è importantissimo è importantissima quella vittoria lì ed è ovvio che io quella cosa lì la sento forte e poi ognuno è libero di fare come vuole io non riesco a a dire vabbè oh sì abbiamo vinto però cazzo abbiamo giocato male con il Milan è un cazzo per me non cioè io non ce la faccio poi chi ce la fa ce la fa chi è è diverso ognuno ognuno c'ha il suo ognuno c'ha il suo io nonostante sia consapevole che è stata una brutta partita quel fuoco l'ho sentito è utile girarci intorno se il Milan arrivasse nel quarto nel girone allora sì sì se il Milan esce completamente dalle coppe a parte che secondo me il Milan io non dico da inizio anno per me il Milan mi c'è lo scudetto poi sicuramente a fine anno farà una brutta figura magari arriverà quinto o sesto non lo so però per me il Milan è la squadra più intrigante a me il Milan intriga un botto però sono anche conscio del fatto che Pioli in questo momento sta cercando di replicare un pochettino quello che è stato l'impronta dello scudetto di due anni fa di due anni fa e cioè più che l'impianto tattico l'impianto di gruppo se il Milan riesce a ripristinare quella roba lì secondo me ha un potenziale molto alto poi io spesso volentieri non sono d'accordo con le scelte di Pioli io oggi vedo un Girou molto in difficoltà che secondo me avrebbe bisogno di lasciare un po' più spazio ocaforma anche per respirare anche quando sparla del fatto che la Juve ha un un vantaggio sul non giocare le coppe ma ragazzi ma provate a immaginarvi Chiesa Vlaovic che si devono giocare anche le partite di coppa e quindi recuperano meno di condizioni già adesso ci sono dei problemi cioè Chiesa Vlaovic hanno avuto dei problemi immaginatevi anche le fatiche di coppa fisiche e mentali c'è uno come Girou che ha 40 anni non ti può mica fare tutte le partite di campionato di Champions a quel livello lì e c'è la fortuna di aver trovato uno come Okafor che sembra in palla l'altra sera ha messo Jovic cioè io ogni tanto vedo delle scelte di Pioli e dico boh ma c'è o ci fa ma che senso ha per dire secondo me in generale lasciamo stare che ieri sarei partito così e secondo me è giusto così però l'impianto difensivo del Milan secondo me è più efficace con Calullo a destra piuttosto che Calabria oggi ed è la difesa che ha schierato ieri sera cioè secondo me la difesa ieri sera del Parco di Principi con Calullo largo a destra ciao e tu mori in mezzo e Teo a sinistra è un buon impianto è un buon impianto mi dispiace per Calabria che è il capitano che ci mette sempre il pepe anche oggi leggevo che c'è stata delle polemiche tra i due vabbè però secondo me ci sono due o tre cose che fa un po' fatica a sistemare per un discorso anche di riconoscenza di gerarchia e quando entrano in gioco quelle cose lì nel calcio secondo me è un po' è un po' un problema Stecca dice trentesimo mese grazie mille Stecone per me il Milan è troppo leo dipendente sì lo è lo è guardando solo gli ales delle partite si vede come comunque questa ne parte da lui se blocchi lui che è difficile annulli qualsiasi quasi meno il suo possesso sì ma guarda io sono dell'idea che non sia solo leo dipendente il Milan per me il Milan è fascia sinistra dipendente nel senso che leao viene sbloccato da Teo cioè il fatto che che leao vada a rendere così bene è grazie a Teo che fa un lavoro incredibile tattico quel giochino viene dentro Teo allora si allarga leao si allarga leao allora viene se allarga Teo allora viene dentro leao è importantissimo cioè quella catena sinistra del Milan è troppo forte infatti quando l'altro giorno il giorno della partita di Milan Juve ho fatto il video di Milan e Juve ho detto ragazzi ma prendiamoci chiaro si può vincere far mancare uno di quei due lì ammassa tatticamente e tecnicamente il Milan che basa il 70% 65% della loro fase offensiva lì e il Milan su Magnan basa un altro 50% della fase difensiva e quando manca un giocatore fondamentale nella fase di costruzione e finalizzazione come Teo perché ti permette di potenziare leao e ti manca un giocatore fondamentale chiave come Magnane l'abbiamo visto quando è mancato Magnane al Milan l'anno scorso quanti punti ha perso c'è da sfregarsi le mani per quello che secondo me il Milan ha fatto un acquisto che è splendido è meraviglioso che è Pulisic proprio per uscire un pochettino da questo loop dal fatto di rimanere sempre concentrati sulla fascia sinistra che porta avanti perché Pulisic ti rende quella fascia sinistra simmetrica il Milan è sempre stata una squadra simmetrica a destra doveva giocare con Messias con Saleme Kers ma non sono giocatori da da Milan che deve giocarsi le prime posizioni Pulisic è un giocatore importantissimo e ti permette di avere un'arma fortissima anche dall'altra parte e quindi secondo me è stato molto importante Pulisic per il Milan e sono stati bravi perché poi sono andati a prendere appunto Okafor che può giocare punta oppure no Cucuese che può entrare e fare un po' di di far far fatica al terzino che lo deve marcare cioè Milan ha delle armi secondo me davanti Milan ha delle armi poi dietro secondo me ha un buonissimo reparto difensivo a centrocampo ne due forti che sono Renders e Love to Chick Krunic Pobega ma anche lo stesso Musa che è il meno peggio tra i tre non sono giocatori forti e deve aspettare il recupero di Benassere rientro di Benassere perché se poi si mette con Benassere davanti alla difesa se starà bene con Renders e Love to Chick Mezzali con Leao Giroud e Pulisic davanti con la difesa che vi ho detto prima Magna non importa è un 11 ragazzi che secondo me fa paura che secondo me fa paura però con con Krunic si fa un po' più di fatica Warian grazie mille per il ride con i tuoi spettatori benvenuti benvenuti stiamo per chiudere anche noi De Paul De Paul che è un altro nome che è venuto fuori è il classico giocatore classico che la io doveva prendere 4-5 anni fa De Paul cos'è? un 94 95 vediamo De Paul 94 vuol dire che l'anno prossimo fa 30 anni quando è che era da prendere De Paul lo prendi adesso perché magari nelle squadre che poi questi giocatori li hanno presi nel momento giusto iniziano a fare dei ragionamenti su degli altri tipi di calciatori però se poi adesso prendiamo De Paul e magari diamo un ingaggio alto perché sicuramente De Paul prenderà un ingaggio alto o chiederà un ultimo ingaggio alto e poi non riuscirà più a mantenere quel rendimento di prestazioni tale da garantire quel tipo di ingaggio ma il calciatore ce l'avrà lì per almeno altri 2-3 anni dopo cosa diremo? che il monte ingaggio alto perché sono sbagliati a fare gli acquisti sicuramente sì poi ci sono anche dei giocatori che a quell'età sono perfettamente integri dal punto di vista fisico e sono in grado di garantire delle prestazioni di alto livello assolutamente poi 30 anni non è che stiamo parlando di un giocatore vecchio però dipende dalle condizioni a quanto me lo dai De Paul quanto guadagni a De Paul quanti anni devi fare a De Paul quello perché De Paul sicuramente è un buonissimo giocatore a me è sempre piaciuto tantissimo De Paul tantissimo se ho pensato all'utilità secondo me Samarsic è decisamente più utile di De Paul in questo momento decisamente più utile no dai non credo non credo questa cosa non credo questa cosa non credo io ragazzi direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata abbiamo fatto una bella chiacchierata di un'oretta adesso scarico la live la tagliuzzo un pochettino la carico su youtube quindi ringrazio tutti quelli che sono stati qui ringrazio i ragazzi che si sono abbonati punto esclamativo telegram per gli abbonati canale telegram è salvato gli abbonati saluto i ragazzi invece che hanno guardato il video su youtube è stato un piacere e quindi grazie a tutti quello che dovevo dire l'ho detto ci vediamo in un prossimo contenuto ciao